Nel weekend scorso sconfitta esterna per la New Basket Agropoli Pestum contro Cestistica Benevento per 94-59. Gara equilibrata per lunghi tratti del match, i cilentani pagano l'infortunio immediato di Pekic dopo tre minuti che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco. Il K.O. di Pekic si aggiunge al forfè di Molinaro per un problema alla mano intercorso in settimana. Nonostante le defezioni, il primo quarto si è concluso sul 16-19 per i Delfini. La gara prosegue sui binari dell'equilibrio fino al terzo quarto. Poi la stanchezza e la fatica dei cilentani permettono lo strappo finale ai Sanniti che chiudono con un parziale di 34-9 l'ultimo quarto. Prossimo appuntamento per la New Basket Agropoli Pestum contro la Biboon Basket Rende al Palagrin dove i Delfini potranno riabbracciare i loro tifosi sperando che siano numerosi. Il tabellino della New Basket Agropoli, dell'Olmo 15, Lepre 7, Norci 5, Farese 6, Borrelli 16, Landgreen 10.